E adesso direttamente da Tussi K Vails vi parliamo di Francesco Sole tramite questa intervista tratta davvero. Francesco Sole ti aspettavi di essere confermato. Nonostante gli ascolti della prima edizione fossero stati molto buoni, non la davo per scontato. Ma quando mi è stato comunicato che avrei fatto parte della squadra di Tussi K Vails, la tensine di E6 è sciolta. Ora, non mi resta che godermi questa seconda esperienza televisiva, cercando di continuare a crescere sempre di più. Che cosa hai provato quando sei tornato in trasmissione? È stato emosonante, l'anno scorso, visto che per me si trattava della prima volta, ho vissuto tutto con occhi sognanti perché per me era tutto nuovo. Questa volta invece sulla base dell'esperienza maturata nella scorsa edizione, sto cercando di concentrarmi di più e di vivere fino in fondo questa opportunità. Mi trovo a mio agio in questo programma, perché lavoro con una squadra di grandi professionisti. Ecco è come se tutti insieme, frequentassimo il secondo liceo, l'anno scorso ci siamo conosciuti e abbiamo fatto le prime verifiche e adesso siamo più affiatati. Francesco Sole conduce il talent show di Canale 4 con Belen Rodriguez ci parli di lei. Non ho mai avuto una compagna di banco così bella, tutto il rispetto per i miei ex compagni di scuola, Belen oltre a essere bellissima è anche molto dolce. Mi supporta in tutte le occasioni, mi sta vicino. Cerco sempre conferma nel suo sguardo per quello che faccio. È molto più bella dal vivo. Quando faccio delle foto con lei, mi sembra di essere poco fotogenico. Poi, però mi rendo di essere al fianco di una donna bellissima e me ne faccio una ragione. Francesco Sole parlaci di te, quando non lavori come è la tua giornata tipo. L'ultimo anno è stato intenso. Dopo la prima edizione di Tusik e Vails, ho voluto diminuire la mia presenza sul web, avevo sempre pubblicato tanto materiale in tete, ma se questo da una parte mi dava tanto, dal l'altra mi toglieva molto. Spesso mi capitava di essere troppo dipendente da internet di sentirmi condizionato, facevo fatica ad avere una visione chiara della realtà. Da qualche giorno ho ripreso a pubblicare i miei video in rete, ma sono felice di avere l'opportunità di concentrarmi su altri media, come la televisione o sulla scrittua dei libri. Oggi cerco di rispettare delle regole per limitare il mio rapporto con la tecnologia. Francesco Sole come ti regoli da questo punto di vista. Quando vado a cena con gli amici, tutti insieme, seguiamo un rito, mettiamo i nostri cellulari uno sopra l'altro, con sopra un bigliettino. Sul foglietto c'è scritto che il primo che decide di fare una telefonata o di rispondere a un messaggio paga la cena tutti. Sto raccogliendo queste idee nel mio nuovo libro che uscirà prossimamente. Quest'anno poi voglio dare spazio non solo alla tecnologia, ma anche a tante altre passioni che sto coltivando.